Il concorso di pittura estemporanea Disegna tu la sacca giunge alla nona edizione. Il concorso di pittura estemporanea Disegna, partito nel Sordina nel 1993, ha raccolto negli anni consensi di pubblico di critica sempre crescenti. Volto a valorizzare e a diffondere la conoscenza delle storie artistici del quartiere storico Santa, il concorso è aperto ai ragazzi delle scuole elementari e medio-inferiori. Ogni concorrente è invitato a riprodurre, avvalendosi liberamente delle pratiche artistiche più variate, un angolo qualsiasi del quartiere sacca, scelto a piacere, la chiesa, l'abitazione, l'icolo. Tutti i lavori vengono esaminati da una più grande scuola e decreta i vincitori tra i lavori migliori della classe. Tutti i lavori vengono esaminati da una più grande scuola. Tutti i lavori vengono esaminati da una più grande scuola. Tutti i lavori vengono esaminati da una più grande scuola. Tutti i lavori vengono esaminati da una più grande scuola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.